Succavore cavore amici ed eccolo qua. Ingredienti per queste graffe? Farina, latte, uova, burro, zucchero, sale, lievito. Usiamo la bica, metto la farina poi prendo la bica, la taglio e la metto dentro. Ecco qua. Mettiamo tutte le uova dentro, mettiamo lo zucchero, aggiungiamo il sale. Perfetto, ecco qua. Il burro, aggiungiamo, lo mettiamo tutto dentro. Stiamo in prima velocità e stiamo ammargamando tutto. Aspettiamo una venina di minuti, possiamo fare le palline. Adesso aspettiamo il nostro tempo che lievita. La fate anche più larga, piano, in padella. Che bellezza, nonno, incredibile. Eccola qua. La mettiamo nello zucchero. Succavore.